Ciao a tutti ragazzi, qui a Splash, bentornati su The Guardians. Game Informer continua l'ondata di informazioni relative a Destiny 2, i rinegati, mostrandoci in video le rive contorte, ovvero una nuova ambientazione che sarà appunto disponibile con questa espansione del gioco. Oltre a questo però ci sono anche alcune novità riguardanti i settori perduti. Direi quindi di non perdere altro tempo, sigla e cominciamo a parlarne. Le rive contorte è una nuova ambientazione che arriverà con i rinegati, facente parte dell'Atollo, lo spazio social che abbiamo imparato a conoscere dal primo Destiny, quando uscì il secondo DLC del gioco chiamato Il Casato dei Lupi. Qui si svolgerà la maggior parte della campagna dell'espansione e del combattimento contro gli otto baroni, ovvero i comandanti degli infami, fuggiti dalla prigione degli anziani. Quella che si respira è un'aria molto diversa rispetto a prima. Un ambiente sicuramente più cupo e oscuro, in alcune parti forse addirittura claustrofobico. Questo dato dalla volontà di Bungie di rendere il tutto più serioso e di certo anche un'ambientazione del genere rende tutto più immersivo e più adatto a questo scopo. Naturalmente lo stile è ripreso dall'Atollo con asteroidi fluttuanti nello spazio, un cielo di colore viola che comunque rende differente l'ambiente dagli altri pianeti e restituisce anche un'anima più tetra al gioco. Strutture molto particolari che riprendono lo stile dei caduti e la decadenza stessa di questa razza che si percepisce all'interno di tutto l'ambiente delle rive contorte. Naturalmente in questo luogo avremo nuove attività da affrontare, quindi un nuovo evento pubblico, pattuglie e settori perduti, come per ogni altro pianeta del gioco. Proprio la prima cosa che Game Informer ci mostra è il nuovo evento pubblico delle rive contorte chiamato Crypod Escape che personalmente mi ha un po' ricordato l'assalto del prelato Arconte del primo Destiny dove il boss finale usciva da una capsula simile a quella di questo evento. In realtà però in questo evento pubblico avremo a che fare con l'alveare che tenterà di risvegliare dal sonno un cavaliere che uscirà proprio dalla capsula di cui vi parlavo poco fa. Naturalmente in questo caso il nostro intento è quello di ucciderlo prima che possa fuggire e ovviamente come per ogni altro evento pubblico del gioco potremo renderlo eroico. Ma Game Informer fortunatamente non ci ha mostrato come fare, lo scopriremo quindi una volta uscita l'espansione e sicuramente ci farò un video a riguardo. Durante il gameplay di questo evento pubblico possiamo comunque notare due cose, ovvero la nuova super ad arco dello stregone e quella del cacciatore. Tra l'altro vi abbiamo portato già due video dedicati alle nuove super che arriveranno con i rinnegati. Nel caso vi interessassero e ve li foste persi ve li lascio nelle schede in alto a destra. La prima cosa che vediamo è la super ad arco dello stregone che rilascia una sorta di onda energetica ad arco, davvero molto spettacolare da vedere. Da queste immagini non mi sembra faccia molto danno al boss, comunque non mi sento di giudicare nulla visto la build non definitiva mostrata da Game Informer e le molte altre variabili di cui comunque non siamo a conoscenza. Quella super però, se ben ricordo, ha anche la possibilità di essere interrotta ed in effetti mi sembra che lo stregone la usi per poco tempo nel gameplay, quindi questa potrebbe essere la risposta al perché faccia poco danno. La super del cacciatore invece rimane molto simile a quella attuale ad arco. I colpi con il bastone mi sono sembrati pressoché identici, ma ora si ha anche la possibilità di ripararsi proprio con il bastone, roteandolo, facendolo diventare come uno scudo che è anche in grado di respingere i colpi avversari per colpire proprio i nemici stessi. Davvero molto molto bella. Successivamente è stato anche mostrato un settore perduto delle rive contorte, con protagonista ovviamente gli infami, ovvero i nemici principali dell'espansione. I settori perduti dovrebbero subire dei grossi cambiamenti all'interno del gioco. Bungie infatti li vuole rendere più centrali per i giocatori e più difficili da affrontare sia per livello di potere che per dinamiche. Diciamoci la verità, i settori perduti attuali sono dei piccoli dungeon dove però fondamentalmente si corre fino alla cassa, si elimina il boss e si prende il loot. Ora invece le cose dovrebbero essere leggermente cambiate. Oltre ad essere più difficili infatti dovrebbero essere anche un minimo più complessi ed avere una piccola dinamica differente per ogni boss. Nel primo settore perduto vediamo infatti un dispositivo infuocato che se distrutto può fare molto danno al boss. Purtroppo però nel caso di questo gameplay non viene colpito dall'esplosione, viene però ucciso dalla nuova super solare del cacciatore. Una super davvero molto spettacolare che permette al cacciatore di lanciare diversi coltellini infuocati che sciolgono letteralmente questo boss. In un altro settore perduto mostrato successivamente ad esempio il boss finale è circondato da un campo di energia e non può essere colpito fino a che non eliminiamo tutti i nemici che ci circondano. In questi due esempi di settori perduti devo dire che sono davvero piccole cose, molto semplici, però se sviluppate ancora di più potrebbero rendere molto più interessanti i settori perduti. Renderli dei piccoli dungeon con una particolarità per ognuno sarebbe davvero molto bello, però questa è la mia speranza. Quello mostrato da Game Informer è sicuramente molto meno di quello di cui vi sto parlando, però almeno è già un inizio e qualcosa di diverso rispetto a prima. Bene ragazzi per questo video direi che è tutto, io come al solito vi invito a lasciare un like al video se vi è piaciuto, mi raccomando iscrivetevi al canale e attivate anche la campanella per non perdere i prossimi video e seguiteci anche sui nostri social, trovate tutti i link qui sotto nella descrizione del video. Da Splash quindi è tutto, noi ci vediamo alla prossima guardiani, ciao a tutti!